Allora per preparare la nostra colomba iniziamo dal mix aromatico, uniamo vaniglia, rum, miele, grattugiamo la scoccia di limone ed arancio e copriamo e facciamo macerare. Prepariamo l'impasto, sciogliamo il latte con il lievito, mescoliamo per bene e andiamo ad aggiungere la farina manitoba e lo zucchero. Andiamo in planitaria e facciamo incorporare per bene gli ingredienti, poi uniamo il mix aromatico, le uova una alla volta facendolo incorporare per bene e facciamo girare bene il nostro impasto. Poi uniamo il burro morbido a pezzetti piccoli facendolo incorporare per bene, ogni tanto stendiamo il nostro impasto per farlo raffreddare e ricontinuiamo ad unire il burro fino al termine del burro. Cambiamo il gancio e andiamo a fare incordare per bene il nostro impasto. Uniamo l'uvetta e i canditi, andiamo a pirlare per bene il nostro impasto, lo chiudiamo, lo facciamo lievitare fino al stripicamento del volume. Prepariamo la nostra glassa, uniamo tutte le farine e gli zuccheri, le mandorle e le noci, facciamo frullare per bene. Poi uniamo gli albumi, ridiamo una frullata fino alla formazione di una crema che terremo in frigo fino al nostro utilizzo. Prendiamo l'impasto, lo stendiamo per bene, gli diamo le pieghe, lo pergliamo, lo chiudiamo con la pellicola e lo mettiamo in frigo per tutta la notte. La mattina togliamo l'impasto, lo facciamo riprendere due ore, lo dividiamo in due, formiamo due impasti, di cui uno 100 grammi più lungo che servirà per il corpo centrale. Quell'altro lo dividiamo in due, formiamo le nostre ali. Poi prendiamo l'impasto, lo facciamo rilevitare fino a che non arriva un centimetro dal bordo. Quando è pronto ci mettiamo sopra la glassa, che abbiamo tolto 30 minuti prima dal frigo, la facciamo aderire bene sopra tutta la superficie. Ci mettiamo le mandorle e la granella di zucchero o se volete anche le gocce di cioccolato. Poi andiamo a cuocere a 180 gradi per 55 minuti in forno ben caldo.